Ma hai avuto i fruccelli spesi? Ci fa male? No, lì! Non so che c'è! Sento male! Un po' di corte! Ma la macchina! No, non sa no! No, non sa no! Aspetta un po' qua, noi proviamo! Chi guarda lì? Non ti accorre mai questi video! Vai troppo basso! Ti va male? Ti va male? Sì! Sì! Ecco lì! Fungo qua! Provo la cosa di spesa! Non lo vuole! Aia! Aia! Provo! Eh, ma ti dovrei alle... Ho le cartolette, no! Arraspa! Aici! Provo! Bu! Fu un'altra, dai! Vabbè, vabbè, vabbè! Vabbè, vabbè! Non si dà qua! Vabbè, vabbè! Vabbè! Fu un guida bruci, tu! Questo è ancora più duro che quell'altro piede! Ehi, aia! Ma quanto cazzo è? Mettete la molla! Quanto ti dà? Marco, questa verza non si dava la faccia! Oh! Oh! Echì! Non si dava la faccia! Non si dava la faccia questa verza! Ehi, aia! Ehi! Vai, vai! Ehi! Ehi! No! Mi guarda! Mi guarda! Sanna! 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 Ehi! Vai, vai! Ah, ma voi vi divertite proprio! Questa! Il problema è questa! Queste altre! E poi! E tu ti va a fare adesso che ti va a fare! Vai daici! Aspetta, va! Ci ti va a fare! Sì! Ehi! E tu ti va a fare adesso che ti va a fare! Vai daici! Aspetta, va! Ci ti va a fare! Sì! Ha! 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 Andata! Prova! Ha! Ha! Ah, fai! Ah, fai! Vai! Oh, ma tu lì è tutto! È tutto caro! Da vede, con il suo film è! Oh! Vaici! Vai, vai! Ah, tronche figle! Non ci prego! Ma... Ssh! Mmm! Che vale a te! Stia o nesi! Tagliatzi! Ah! Vai! Ah! Prova! Vai! È bello stato! Mi che ma se è un macco! no a me non mi si dà sfatto la gusta come fai la pirata? come hai fatto? ehm mica si è marmista no a me non ti sapete tu non ti preoccupare è peggio un po' passa salto che stia è proprio un musco mira prova vai aspetta che è riuscito no non ti basta no 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 va sai fai l'altra no basta qui prova ci stiamo qua il tavaro fu qui tu va c'è una busta della dam vai sega prova fu qui da brucia attenzione è arrivando san maestà però vai dai ci vai è passato opposto allora se ti deve più di sciacquare è sciacquare dai proprio un'infaricchia è fornimento prova vai che guarda girando su ai duro e non c'è le cash questa prova farai sennò mica devi dare 75 euro prova avrai questa regione sia marmista e non c'è spazio cosa c'è questo? questo è un problema questo è un problema non è difficile ormai se lo chiede c'è un po' ora se lo sto su io no, troppo lungo no è valido? niente vai più su vai vai senti qualcosa? niente senti qualcosa? tu mi devi dire sì o no senti qualcosa appunto ma io ci sto male prova prova provo un fuoco ah ce l'hai grosse manco se voleva tu stai subito c'è scherzi